I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno effettuato tre operazioni di sequestro confiscando complessivamente circa 10 tonnellate di pesce, tra cui 90 esemplari di tonno rosso e 9 di pesce spada non tracciati. Nel primo intervento le fiamme gialle di Bagheria hanno intercettato furgoni provenienti dal porto di Porticello nel comune di Santa Flavia, diretti a un deposito legato a una nota pescheria locale. Sono stati trovati 16 esemplari di tonno rosso privi del documento di cattura. BCD, necessario per la tracciabilità della filiera di sfruttamento. Nel secondo intervento è stato scoperto un deposito abusivo gestito da un individuo senza partita IVA e scia, contenente 44 esemplari di tonno rosso e 9 di pesce spada, anch'essi privi dei documenti obbligatori. Inoltre 25 esemplari erano sotto misura, ossia al di sotto delle dimensioni consentite per la pesca legale. Nel terzo intervento, insieme alla Guardia Costiera, sono stati rinvenuti altri 30 esemplari di tonno rosso senza documentazione obbligatoria in un deposito di un'impresa a bagheria. I responsabili sono stati segnalati all'autorità marittima e all'assessorato regionale delle attività produttive. Le sanzioni previste includono la confisca del pescato non tracciato e multe che vanno da 1.000 euro a 6.000 euro, aumentate di un terzo per il tonno rosso, specie a rischio di estinzione. Il gestore del deposito abusivo è stato sanzionato anche per la pesca di sottomisura e per l'esercizio commerciale senza autorizzazione, con multe che variano da 12.500 euro a 150.000 euro per la prima e da 1.549 euro a 15.493 per la seconda. Le 10 tonnellate di tonno e pece spada sequestrate, certificate idonee al consumo alimentare dall'autorità sanitaria locale, sono state donate dalla Onlus Banco Alimentare Sicilia Occidentale.